Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotrico Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico Anche questa puntatona parleremo praticamente del mio nuovo televisore Un Telefunken, modello TE43-55-4G-54-V2KA Comunque c'ha Android, è un 43 pollici, Full HD 1920x1080, è LED E poi cosa vi posso dire? Vabbè, sintonizzatore DVB-T2, DVB-TC e DVB-T, anche l'S2, DVB-S2, MPEG-4 Con il codec HEVC e l'H265 C'ha lo slot per la cam, filtro combi, poi c'ha eventualmente un media player Riordino automatico dei canali e poi c'ha un botto di spinotti dietro Praticamente vabbè, c'ha l'uscita cuffia, uscita audio digitale Ingresso audio PC, ingresso PC e super VGA ce l'ha Poi c'ha l'ingresso composito, la presa audio video Poi vabbè, suato stereo con equalizzatore Il teletext Memorizza fino a 200, dunque, canali analogici memorizzabili 200 ma canali digitali 1000 Poi c'ha la funzione timer, slip e anche il blocco parentela Dunque, pesa praticamente 13 kg, leggerissimo E come dimensioni, eh, dimensioni è abbastanza voluminoso Perché è un 43 pollici E cosa vi posso dire? Vabbè, poi c'ha, beh, con Android Smart TV Eventualmente c'ha la possibilità di essere collegata a internet Io però, chiaramente, l'ho messo fuori linea E non ho neanche configurato nulla Perché questo deve funzionare come televisore E non ci voglio Dotture di palle, di collegamenti ad internet Come va, come va, come va Va molto bene La tartaruga è una lunga tradizione Quindi le tartarughe verdi vengono storicamente consumate Cacciate per la loro carne Le loro uova vengono saccheggiate Prevedibilmente l'Italia, per l'Italia ha mandato Bichetto Fratinno Il ministro, contiamo qualcosa? Molto poco Questa è la mia